80 giocatori suddivisi in tre categorie con la Formula Stab e Ford guidati da Claudio Cappellini e lui il vincitore assoluto della Coppa Conad, trofeo di golf organizzato dal club Isarenas Ha inciso molto la preparazione dei premi da parte di Conad e annunciare prima la quantità dei premi in palio ha fatto sì che la gente sia venuta numerosa Da evidenziare un risultato straordinario Due giocatori sono andati in buca con un solo colpo e si tratta di marito e moglie Maria Dolores Fodde e Massimo Pisano sono riusciti nell'All-in-One impresa che a molti golfisti non riesce in un'intera carriera Nella vita di un golfista il 90% dei golfisti non ha questa occasione e questi due signori oggi sono per la sorte anche marito e moglie e quindi è stata tecnicamente una cosa incredibile Nonostante il mal tempo abbia costretto ad accorciare di quattro buche il percorso originale riducendolo a 14 totali, tutti i giocatori si sono detti entusiasti per il campo di Isarenas sempre al top nel circuito europeo Devo dire che campi ne ho visti, gioco a golf da 23 anni un campo così bello in queste condizioni non l'ho mai visto e non è piageria, in realtà l'impegno della famiglia Pellò a gestire il campo e a tenere il campo in queste condizioni è molto molto importante e considerevole quindi anche a detta di giocatori sardi è il campo che non ha mari Grazie 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 a tutti.